La fusione dell'azienda unica dei trasporti abruzzesi era stata annunciata come una soluzione per abbassare i costi della gestione regionale e con loro non modificare il servizio offerto ai cittadini. C'era stata anche una presentazione simbolica con l'abbattimento del muro, divisorio tra Arpa e GTM a sugello dell'operazione. Oggi invece Forza Italia scopre che la riduzione dei costi non coincide con i piani annunciati. Forza Italia cerca di impedire che questa presunta riforma del trasporto pubblico in Abruzzo faccia più danni che benefici. Chiaramente noi non abbiamo un approccio istruzionistico, cerchiamo di modificare il modificabile perché non abbiamo un piano industriale da cui desumere effettivamente che cosa accadrà. Intanto registriamo che il biglietto costerà il 5% in più perché provvederanno all'aumento Istat, quindi 5% in più, che alcune linee saranno soppresse perché loro vogliono razionalizzare le linee su cui passano più autobus. Questo vuol dire che un cittadino dovrà cambiare più volte rispetto a quello che faceva prima. Registriamo che sul toglio dei costi della politica c'è poco o niente e che comunque, nello specifico la città di Pescara, perderà un presidio di un'azienda che era assolutamente in bonus, che è appunto la GTM. Reduzione delle tratte e aumento del 5% sui costi del biglietto, il che, tradotto, potrebbe significare compiere una tratta come Pescara-Cappelle con 5 cambi intermedi. Lunedì la proposta verrà presentata in Consiglio regionale Forza Italia Insorge. Al momento è la solita riforma di facciata che noi abbiamo cercato di contenere un po' nei danni. Vedremo, quando avremo il piano industriale, se il trasporto pubblico locale sarà effettivamente rilanciato oppure definitivamente affossato.